Un altro asso per completare un poker di altissimo livello, Alessia Mazzaro chiude il reparto centrale dell'Eigor Volley, dopo la conferma di Sara Bonifacio e gli innesti in ordine di tempo di Federica Squarcini e Maya Alexic. Classe 1998, Mazzaro ha esordito tra le «grandi» nel 2016 con la maglia di Monza nel campionato di A2, ottenendo la promozione in A1, poi due anni a Filottrano. News 24, la tua nuova TV locale.